c'è la gamba lunga ce l'ha fatta ce l'ha fatta quasi basta zona vai in zona adesso che sei caldo adesso che sei caldo fai la zona te la fai vedere spanti come no? è schivolo è schivolo dai, sci ecco, via vai ecco, hai visto come l'ha fatta lui? non c'entra un cazzo proprio zero non c'entra niente neanche di lì allora fai il sasso fai il sasso sali vai dietro quella pianta lì guardami dietro quella pianta lì esatto giri dietro fai il taglione bravo stai alto vai sopra le radici là scendi a picco subito passi in mezzo vai così fino a lì scendi giù stai in mezzo esattamente vai vai a girare dietro il sasso e esci su, devi stare su sopra esci bravo oh dai vito dai vito vai vai dietro dietro vai così qua sopra ora appena fai l'albero giri giù subito vai sopra di lì giù 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 in mezzo giù in mezzo su tutto vicio allora allora guarda là come fai eh guarda vito giù chiudi 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 bravo vai a girare dietro esci vai 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 Oh! Lele! Lele, dove era il peso così eri? No, no, non era la pietra, così eri. Cioè ha girato le spalle e ha il manubrio così. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.